Hola a tutti ragazzi sono il vostro Luke e oggi come vedete siamo in un video davvero molto speciale in compagnia di Michele Ciao Yu Siamo davvero in un video speciale ragazzi con una nuova modalità su Notificraft Chiamata appunto Iceed Island roba del genere ma in nome sono dettagli ragazzi In cosa consiste questa isola? Ebbene si ragazzi è come uno skyblock solo che invece del vuoto troviamo il mare con dell'acido Michele se vuoi fare tu il test per mostrare alle persone Vabbè non è che devi morirci dentro Vabbè ragazzi penso si sia capito Il mare è pieno di acido ovviamente avete dei bug della shaders ma risolverò E ragazzi dobbiamo sopravvivere Che succede? Mi fa preoccupare perché sono sensibile Allora ragazzi sinceramente non sappiamo nemmeno noi cosa fare in questi primi episodi Abbiamo doppie cose perché siamo due persone quindi mi piace barare E ragazzi vorrei subito nei commenti che ci diciate cosa bisogna fare qui Ovviamente come primo episodio penso che ci espanderemo Faremo le cose basi ragazzi ma nei commenti dateci dei consigli Perché davvero non sappiamo come muoverci Quindi rompiamo subito l'albero Magari prendendo un bel alberello Sennò cucchezza che prendiamo ancora legno Allora Io ottengo 82 pezzi di legno eh Tu quanto ce l'hai? Senza Mamma mia Ok vabbè lasciamo la cata di piano piano quasi quasi Ah potremmo fare già il generatore Ma cosa vuoi fare il generatore di lava? C'è di cobblestone con la lava e l'acqua tossica tipo Non so che si può fare No ma credo se secondo me l'acqua non mora Mmm dici? Ma hai fatto il testo stavi morendo Porca vacca Ma facciamo così Facciamo una Facciamo una piattaforma nell'acqua Ok Intanto faccio una bella crafting che c'è sempre bisogno Una piattaforma con che però penso con una Con la terra Oppure con questo Con la stona Perché se no rischiamo che prendiamo fuoco Perché magari le terre servono per altre cose E poi dopo c'è insulto nei commenti Allora facciamolo tutto quanto interamente Così Pado facciamo i buchi Che non c'è basta manco per respirare Però vabbè dettagli Oh Ma tu hai i rumori Ok Facciamo finta che sia così no? Come bisogna fare? Dovevo mettere prima la lava e proprio Eh però se devi cadere 10 kg di sabbia ogni volta Tagli Beh grazie Magari Ok Oh porca vacca Ok E' successo niente Ma io provo a scavare dritto per dritto Ma è sempre sabbia Ok abbiamo capito che c'è solo sabbia Quindi vedremo più là cosa c'è sotto Nelle ceste cosa abbiamo che possiamo utilizzare E quasi quasi Utilizzare proprio la terra per fare la farm C'è proprio sticato Solo che non mi ricordo tipo mai come si faceva C'è tipo quasi metteva la lava Poi Eh Si doveva Anzi Aspetta No 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 aspetta 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 Ci voleva l'acqua prima Però senza secchio come si fa? Ah ma ce l'abbiamo i secchi aspetta Svuotiamo la lava Eh svuotiamo la lava pure Quindi non c'è un problema Aspetta però Con calma Qui dovrebbe fare un buco Ce l'abbiamo in piccone? Si Ce l'abbiamo in piccone bonus Si 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 No forse uno solo va bene Perché in teoria aspetta L'acqua scorre da qua Poi qua c'è sta questo Aspetta aspetta Facciamo così Proviamo eh Perché non lo so Vediamo un pochettino Vediamo così Aspetta fammi pensare La lava arriva L'acqua arriva fin qui ci siamo Mi pare chiaro uno di lava Fai così Metti la lava qua Metti la lava qua Ok Prendi l'acqua e la metti dall'altra parte Aspetta Aspetta Facciamo così Vai Metti l'acqua ok Guarda eh Boh Facciamo l'astron Guarda l'ossidiana Aspetta eh Vediamo se è la prova del nove Olè Fatto Fatto Ah la cosa figa Sai qual è? Ma che ca Lo vedi anche tu Michele? Oddio raga Michele è scomparso ma io vedo la roba strana I labiscazzoli Il ferro Allora raga due sole opzioni O Michele ha distrutto il microfono O è semplicemente di caduto Ok ti sento ti sento Non ti sentivo Secondo me quello là Eh Mannaggia Ok E' tutti i materiali Capito Ah perciò forse con tipo con l'acqua speciale hanno fatto sta cosa particolare Credo Credo che sia collegata Però che la storia non la so Né tanto meno Michele Qui nessuno la sa Ma ovviamente con la terra è bruttissima Quindi dopo recuperiamo la terra senza rompere nulla Ma da tutti i materiali tutto da Ma però ci sta eh Molto molto buono Il carbone però se ce lo da non è che ci offendiamo eh Perché dopo vorrei fare già gli stone brick per abbellire La cosa Perché sai che l'estetica è la cosa che conta Kit naufrago Kit Naufrago Che c'è tipo un kit base E mo me lo dici Ok aspetta Perfetto L'ha dato l'ha dato Mucca Ma do No no L'acqua chimica No Porca vacca Ma do Per salvare la cosa La carolina qui Ma se fanno ste cose Do Ma c'ho 20 minuti di nausea qua Raga perdonatemi per la droga nel video ma Sapete che la droga fa sempre male Ricordato Eh ma fa male ma che cacchio ci posso fa Oddio Oddio Certo vi alzare i blocchi in impresa eh Oh 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 Mi sembra fare cose brutte Ok Ma secondo me dobbiamo farlo recinto a carolina Perché davvero C'è l'estetica suicida che mamma mia Ma butta le navi di erano Infatti quello faccio Ciao carolina Vai a minare un pochetto Ma muore per il danno da caduta Carolina Ma non c'entra nemmeno C'è culo grosso c'ha Eccolo qua caduta Ok perfetto Mangiamoci delle mele Nice Ok Cominciamo da bellire Anche tu potresti fare kit naufrago Però tu c'hai il problemino con la tastiera Cazzarula Ci sarebbe Servito davvero tanto Vabbè dopo si Per abbellire Raga vi ripeto Questo primo video sarà come sempre Video brevi Hai ci fatta scontate Papà mia papà mia Michele cosa ho rischiato Tu per fortuna non ne hai visto Non ti sei impressionato Ma lei è kit naufrago Lo posso fare subito No Tra 24 ore Mortacci loro Vabbè raga Io direi che come primo video Molto piccolo Posso andare bene Perché raga vi ripeto Per portare avanti una serie Ci vogliono tanti like Non perdetevi il video serale Che non so quale sarà Magari può essere anche una live Detto questo Mi raccomando Lasciate un bel mi piace Commentate il video Condividetelo Ma soprattutto Iscrivetevi al canale Ci becchiamo alla prossima E Ciao a tutti ragazzi Ciao